in carrozza ragazzi finalmente è arrivato nuca world quindi dobbiamo ascoltare la radio noi siamo qui con il mio piccolo di liberty prime che mi segue ciao bello allora quindi mettiamo la trasmissione della nuca cola bisogna essere come minimo al livello 20 ragazzi per partire questa missione zitto te nuca world ragazzi fomento un parco a tema della nuca cola ragazzi praticamente ancora gira questa 100 anni questo segnale radio nuca world il centro di transito sentite come cambia la voce già lui tutto più serio scusate raga non ve rubamo nessun marchio ok andiamo a vedere la mappa e dove sarà eccola qui quindi viaggiamo velocemente nel posto più vicino che è questa cappella solitaria io ogni volta invece diverto quando lo leggo so io che so uno zozzone ok trasporto troppo preso quindi vabbè per adesso facciamo così e andiamo ragazzi siamo qui con nick valentine grande compagno di avventure e ci avviamo verso vediamo cosa è giusta la strada vediamo le indicature verso il centro di trattito per nuca world ciao bramino ciao bramino ci saranno i death club quanto vediamo un pochetto si è parlata? ah no che bello che cazzo avrà ammazzato? vediamo se l'archi ecco l'accesso per andare a prendere la monorotaglia come vi ricorderete io sono monorotaglia monorotaglia! 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 ok raga sono un deficiente come vedete qui sotto ho messo la inquadratura proprio sopra la vita quindi non si vedranno gli hp però vedrete la faccia quando sto per morire sto così quando ho questa faccia vuol dire che sto per morire quindi cambierà la sticella della vita invece di quello ci sarà la mia faccia che smartisce quando vedete che sto per morire che sto con quella faccia vuol dire che sto per morire dai a tutti riparto entra in quella stazione prima che siamo pronti prenderò la sua testa avremmoci dentro voglio fare rapporto a sai presi il prima possibile accumuliamo parecchie radiazioni qui io c'ho soltanto non c'ho armatura o niente mamma mia ciao belli te becchi fatman in testa oh cazzo non siete morti ancora robotone vada nick ti apposto scusa no basta con i fatman finiamoli questi cazzo noi già stanno a morire io non so i tasti sto con la tastiera non so abituata non ci si abbassa ecco io devo sparare da passato ma c'è un deficiente sì ciao caro ma è divertente la sopravvivenza guardate armi ciò vediamo un attimo sì vabbè io volevo dire una cosa di pollo super martello che pensare l'omunizione certo che senza armatura dai super martello vediamo che ci siamo che vuole armi poi gliele grazie perché mi ha fatto una spara un sacco di pochie sta pistola bravo nick per fare il comandante è buio io non ci vedo un cazzo vedi come spara questo boh mi ha puntato io posso sparare un altro che se troveremo cose ben peggiori non ci vediamo oh bravo ormai ho fatto 40 volte ah non siamo ammoralizzati grazie io che so una pippa muove le volar ma pure è partito proprio infatti ma vado appiattanato bella dammi questa pistola mmm vedi gayler c'ho pure la mod per fare e donne più top ah no le vado vado tutto per quanto è molto figa la pittata volta curato tazzo no adesso la tenete no oddio è quasi curato santo ho perso tutto il sex a piedi immaginavi che sarebbe finita così e mi mi immagino che devo prendere qua sinceramente da ammazzare pistola non so guarda guarda un po' che si rivede ok ce ne fottiamo e entriamo nel centro di trattico c'è qui c'è qui addio amico pronti insieme alla monola sei di nuovo qui significa che mi aiuterai dove vai mi serve il tuo aiuto si 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 hai un aspetto orribile si 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 in Allora, non fiamogli uno stimpat. Ce n'ho 45. Che vengano a uccidermi se vogliono. Stai a far finta di sta male. Tipico dei prezzi. Che aiutare. Lascia che ti aiuti. Mi affronterò. C'è bisogno che tu muoia. Dici sul serio? Fai attenzione. Questo sembra John lo metto là. Prendi questa. È la password per il terminale di comando della monolotaia. Il modo più veloce per raggiungere Nuka World è il Nuka Express. Ma l'ho disattivato per rendere il tutto più credibile. La mia storia avrebbe avuto più senso con un tentativo di tenere alla larga i perdoni. Cerca il terminale di comando nell'ufficio per riattaccare la corrente. Hai in bocca ma ammazzato. Mi sa che sei un nimo. Lo sa che sei un nimo. Finiamo se ho stato personaggio buono. Serve qualcosa? Ok. Dobbiamo riattivare la corrente. Quindi per riattivare la corrente dove è bisogno. Potrei dare un'occhiata a quel terminale. Abbiamo la password. Abbiamo seguito il dialogo che ho fatto io. Per farvi dare... Beh ovviamente dovete avere carisma alto. Gli orari degli avvisi dei dipendenti. Questa cosa è troppo fine. Gli orari autunnali. Poi dopo faceva freddare e spiegava più. Servire con il servizio. Vabbè. Andiamo a accendere la monotaria. Andiamo a vedere. Gestione energetica. Prima alimentazione ausiliare. Prima alimentazione della monotaria. L'ausiliaria che è. Abbiamo acceso anche questa stazione. Nuka World è orgogliosa di essere l'unico luogo della East Coast che serve Nuka Cola Quartz e Nuka Cola Victory. Provatele oggi stesso. Quartz e Victory anche. Attenzione ragazzi. Che la monotaria è accesa dovrebbe essere in teoria. Quindi raggiungi Nuka World. Nuka World. E ricordate no? Nuka World è il doppiatore. Salve a tutti. Per conto di Nuka Cola Corporation diamo il benvenuto ai passeggeri della monotaria Nuka Express. Per la vostra sicurezza rimanete seduti o aggrappatevi ai corrimani mentre il treno è in movimento. Certe notte. Se guardate alla vostra destra potete ammirare la famosa Fifth Top Mountain di Nuka World. Eccola comunque. Alla più di 100 metri Fifth Top Mountain è la struttura più imponente di Nuka World. e ospita il ristorante a 5 stelle in Top Hill. E' terrorizzante così al buio. Più avanti c'è il cuore di Nuka World. Certo non ci si può spostare. Nuka Town USA che ospita la Cola Car... L'Ampiteatro Brad Berson e il cinema ristorante Il Salone. E bambini. La gente è morta dentro. Va bene. Guarda chi ha scoperto la verità e ti è venuto comunque. Immagino... Mi ho becchiato. ...che Harvey abbia giocato bene le sue carte. Ho poco tempo. Perciò apri bene le orecchie. Mi chiamo Gage. Porter Gage. E il nostro amico Harvey ti ha detto soltanto una mezza verità. Ti aspetta comunque una trappola mortale. Ma se riesci in qualche modo a sopravvivere, ho un'offerta interessante per ti. Nel frattempo divertiti e dai un po' di spettacolo. Ci piace ragazzi. Ti osserverò con attenzione. Affronteremo un pega labirinto. Un labirinto mortale. Un labirinto che è un po' più radiazione. Radunate la vostra famiglia e controllate di avere i vostri effetti personali prima di scendere. In caso non l'abbia tentato, parliamo che avremo carne fresca per il duello supremo. Ma da duello supremo. Speriamo che la nostra nuova freda presa. Non si entra da questo lato. Coraggio dalle vidi di miei precedenti. Vediamo se siamo raggiunti bene. Cavolo. Ok. Bada! Ma sul serio? Porco diavolo. Bene. Ispezione preferito Q. Ok. Due. Se io premo due, in due. Da sto buco mi sta piacere. Non do una nuca corta. Grazie. E' un'altra pure là sotto. Forza e coraggio! No ma quante so? Stiamo solo all'inizio. Coraggio! Non vorrai vederci invecchiare, vero? Vessima mossa! Anche un pevedo. No vabbè, sott'accato. Ma che cazzo dici? Stai inboccando. Spero si devi pialloppe. Ok. Il sensore. No, come c'è sopposto? Oddio, siamo nascosti dietro un cestino. Sì, ho schizzo ancora qui. Dacci l'entra forza! Chi te sei in c***o? Ma te scusa, ma che stai a fare un po' da un minuto? Ma dov'è Nick Vare? E' un po' da un minuto che è rinasto là. Ma chi l'ha chiuso fuori? Faccio un favore al mondo. Eh, sei un depicante. Fattelo dire. C***a la troia. E non si decide qui, moriremo tutti di noia. C***a la troia. Vabbè, che c***o. Non ce credo. Non ci daranno più fastidio. Sì, c***o. Non mi daranno più fastidio, Nick. La nostra nuova vittima sa schivare bene i proiettili. Per fortuna abbiamo ben altro inserbo per lei. E' rimasto là Nick, stiamo da soli. Ah, ce l'ha fatta in pratica. Scusami. Guarda. Non credo di poterla forzare. E' bloccata. E' bloccata. La vittima è ancora viva, ma non disperate. Le sorprese del duello supremo non sono ancora finite. è il itinerale visto anche a loro. Il serrataggio che praticamente aveva giocato. E' and ecco a dirlo. E' un attimo. E' ora di decidere, tutte le porte conducono alla morte, minuto più, minuto meno. Figa. Porca troia! Ho preso pure il muro. Allora, innanzitutto salviamo. Ok ragazzi, stavo dicendo che potevo salire di vello, ma avevo svariati punti. Allora, mi serviva a scassinare, assolutamente, infatti mi mancavavo. Voilà! Ah, e abbiamo anche altre tre cose da prendi, io poi punti l'avevo messo un po' male, perché la prima volta che giocavo ho messo tutto qui all'inizio. Io direi che prende l'agilità, l'avevo puntato molto, quindi direi che prende, boom. Comunque, alla fine quelle più sotto sono le più forti, io ce l'ho quasi tutte prendibili. Non le ho prese. Peggio un colpo critico istantaneo, dal quarto bersaglio in poi con lo spalto. Fichissimo. Vediamo poi soprattutto perché non l'ho mai visto se ci saranno davvero effetti mosse di Kung Fu o cose varie. Comunque, penso che la via sia a questo altro punto. E ci porterà comunque alla... Noi non abbiamo neanche, ho notato già che qui sotto è tutto radiattivo, porca troia. E io come faccio? C'ho una tuta hazma. Per fortuna, regà. Ciao tutta, chi dico. Vabbè, te sei un androide, che dovresti ammazza pure che la tuta hazma. Mamma mia, che radiazioni c'è stanno. Hai ricordato del Radaway? Perché la nostra carissima vittima sta per essere arrostita come uno spiedino. Ah, era difficile, quindi potremmo anche... Probabilmente quella è sotto, che non ha aperto prima, che poi vede Ardo a dire che... O c'è qualcosa, si fa prima, probabilmente... Qualcuno si crede forte, eh? Ma il duello supremo non ha ancora finito con lei. Ok ragazzi, siamo andati avanti. Si procede bene. Direi che potremmo togliere. Non c'è il Radaway, quindi matura a tutta la vita. Quindi rimettiamo... C'è proprio della roba... Matura a costiera, no. Questa è tutta la vita. Questa è tutta la roba trovata densa. Poco male. C'avevo pure un cartello. Però così sono... Sono proprio una figa. Oddio! Perché sono disattivate? No! Perché non ci ho passato prima? Andiamo a nascondino. Perché non mi hanno sparato quell'altro? Oh beh. È finita. Io direi che però va... Ma la faccio a cuore. Che ne so. Provamogli. Ma che boss è arrivato. Ah Nick, sei morto. Morto definitivo. Dove devo andare? Dove devo andare? Forse sono io! Forse gli è andata. C'ho tre forcine. Oh mio Dio. E se uno le finisce che fa? Deve uscire. Torna in città. Oh mio Dio. Beh, dovrei cercarle per terra. Dio lì, ho la rompe Marco. Oh, si rompe. No! No, vabbè, siamo passati ragazzi. Si può fare. Fatevele accorto. Nick non so se... Avrà la stessa idea. Altrimenti combatterà. Ecco ragazzi. Che cos'è? La prima razza. Il ratto radioattivo. Ma bello che è qua. Ok, ma perché lì dobbiamo aprire? Scusa, che motivo è? Esso. Ma per vedere. L'altra strada com'è? Che cazzo è deparato? Non ce le potremmo montare. Oh! Alien anime. Ma che cos'è? È un alieno robot. Io non lo conosco, devo dire. Fighissima, però te spara. Dov'è la pistola, cazzo? Allora, ci diamo una mossa? E non rompe le balle. Alla fine, il duello supremo vince sempre. Dai, vediamo bene stirarti. Che bello. Che gli stavi a f***? Oh, skillet. Lo metano come fabbri. Porca loca! Mi aveva trovato quasi tutta la vita. Tu sorci, maledetto. Tu sono venenosi, tu ora. Tipo i... Tipo i... Ancora sta lottando il quale. Tipo i scorpioni. Ma se potrei passare pure del qua, ma pensate... Due strade... Ben due strade. Ah, porca la... No, vabbè. Cioè... No, vabbè. Quante radiazioni mi si è beccata. C'è tra un cazzo. Ecco. Comunque... Mi ha usato la tuta. Mettiamola che la... E' velocemente. Il tasto... Sei. Mettiamo 6. Cazzo. Tutto dove devo andare? Allora, ci diamo una mossa? Ah, guazzi, hai fatto l'appi di quello che cacchio pretendo. Alla fine. Le cose si fanno pericolose. Vediamo se sopravviverà al prossimo gioco. De n'affanculo, io cazzo, sono tutto a mani noti, fatto per combattere. Però non c'è un'arma tutta. E' un'arma tutta. E' un'arma tutta. E' un'arma tutta. E' uno scherzo Sapevo che dovevamo metterci delle torrette Ah ah Non ti aspetta via Pensava che funzionassero i robot Invece sono vecchi e rotti Non sono partiti E' un labirinto Uh Vediamo che si ricordi di dare la pappa in giro Oh porca troia E ora devo riprovarti Ma si l'hai costruito male Ma che stiamo dall'altra parte Ma che diavolo Mest Eric Quella porta doveva essere sbarrata Ma è un coglione questo Regà sbagliato tutto Cioè ci siamo passati tranquillamente Fate come me regà Tattatete tutto Oh No E' una cazzata Sono saliti Le granate Oddio Panico Io mi metto qua Voglio vedere se è riuscito a camminare In questo spazio qui No Ma è un coglione Di merda Un coglione No vabbè Crollata Tutta radioattiva Stacco Bam Mamma E' ammazzato quello piccolo E' documentato Fa' un culo cazzo I gabbani nuovi Infatti C'è stata difficoltà Ma che cazzo Ho visto mandri e di bramini più veloci Di questa tartaruga Mandri e di bramini più veloci Dunque abbiamo aperto Quale era quell'altro Ce l'ho molto seguita I maio Oh Mi hai seguito Avanti Sei andato Mamma mia che crambata PAM Fabresti E qua non c'è passata I mostronzoni Basta una scatoletta Per maio Bella Quella la volete di andare Granate Questo sarà il nuovo Vado E' il momento di un bel bagno di umiltà Vediamo se la vittima neutralizzerà il gas Prima che il gas neutralizzi Ma che scarafaggioni Sono più grossi io No Sono i soliti Ma variano più grossi C'è un gas Che c'è? No Stiamo buoni Un attimo C'ho tre Bolzetti Ecco qua Non basterà Girare qualche valvola Per fermare il gas E giro tutte? Perdi tempo Stai solo perdendo tempo Questo è veramente un bugione ragazzi Parlano parlano In pratica La sicurezza è strapposa Ti diede un'aria Che cazzo Non ce l'ho I buoni Porca cazzo Sta uccidendo come Posso fare le azioni Che cazzo Sei scaravaggioni Non riuscirò a forzarla Come fanno? Ve l'avevo detto Che quelle valvole Erano una perdita di tempo Cos'è? Ti piace il gas? Devo usare sto computer Marte Mamma mia C'è un modo per forza ragazzi Questo qua ci deve avere Ci deve avere Qualcuno qui ci deve avere La password Qualcuno o qualcosa Ci deve avere la password Il Med-X Mi sa che non mi stava A fare le vare Quei minimi da A fare le vare Ah forse sta qua Sicuramente Ha la libretta di sicurezza Ce la passo Ottimo Però non mi la riporto Un fucile d'assalto In un avanti Gitta così Se non si decide Qui moriremo tutti di noia Minchia La chiave La chiave La chiave Qui no? E no? Violarlo è impossibile Cazzo Faccia sti grand'anni Ok l'olonastro per le manutenzioni È qui ragazzi Ora andiamo a spoltarlo Probabilmente Che dirà qualcosa di importante Per riuscire ad andare Era la chiave della stazione secondaria Quindi c'è deve essere qualcosa da prima Ah ok Quella mi sa che era la password Del terminale Che la password Determinata È una scrivania Alla dietro È troppo difficile Comandi porta di sicurezza A me me ne frega un cazzo Per caso E le venghe ammassà E diventa il capo Io è il più duro qui dentro Poi l'ammazzo Mi vale il tempo Abbiamo aperto la con la sbagliata Non ci può scrivere È un classico Ma che cazzo Ho visto madre di bramini più veloci Di questa tartarone Però non tanto gli usa arrivato Mazzo Proprio così Ok stia Respira Respira Finchè puoi Un nemico qua Oh La formica soldato Hanno rimesso le formiche giganti Raga Faccio un favore al mondo Vada Ciao ciccia Carne di formica Raga Bellissimo Dal treio Oh pure lo sciame L'ho bellissimo Proprio Cazzo E noi con le radiazioni Che se siamo beccati Prima C'è Proprio Misera Ok for me che volante Stranamente Che martello Vado Più bene Sciame di formica Chi è? Porca troia Guarda chi è Sì c'è In ritura D'arrivo Chiediamo la collaborazione Del pubblico La collaborazione Del pubblico Mi stanno a sparare A loro Pubblico Infamità Questa Reagiamo Buon ruolo Ciao bello Non c'è un'armata Tata Ammazzata Ci hai provato Che c'è un'armata Cosa è stato Ok entriamo nell'area Ciò che cazzo è Però entriamo nell'area In questo momento che sto giocando io Non si sa nulla Sapete cosa significa E allora portate il culo alle colaca Lo spettacolo sta per cominciare Cazzo io vedo già uno con un'armata No No Vabbè io c'ho un pet C'ho un pet C'ho un pet Ma è con 15 corti Gli sparo tutti adesso Chi è Ma ci trovi È tutto pronto Gage? Sì capo Bene Ora va a spegnere quel cazzo di allarme Ok Ci sono Ah mi sta là dentro Ah Ecco la mia prossima vittima Oh Non sembra granché Ti spiego brevemente come funziona Ti prepari Ti rendi presentabile E poi diamo un po' di spettacolo Uno spettacolo in cui decorerò questi muri con il tuo sangue Grazie a questa tuta lo scontro lo vinco io Fine della storia Arrivare fin qui ti ha dato alla testa? Tanto adesso te la stacco Ok Gage Falla entrare Qualcosa mi dice che mi divertirò un mondo Ma non sai che se io ti clicco addosso E premo questo tasto E clicco Su kill Tu muori Eh non sai questo Se scrivo kill sei rompo Ci siamo quasi Dopo una volata come quella Bellissime L'autoscontro Vabbè sì L'autoscontro Vabbè sì Vediamo se c'è qualcosa di Qualcosa che me lo posta a far uccidere Vediamo se c'è un po' di spettacolo Accendino alle porti E' un po' di spettacolo E' un po' di spettacolo E' di un minuto e trentasette secondi Il record Ok cerca l'interfono sul muro E' una cosa veloce Sono quello che ti farà uscire da qui sulle tue gambe Perciò ascoltami bene Bada Ok ti ascolto Brava ragazza Ascolta Te la sei cavata fin qui Ma il prossimo scontro è truccato Capito L'armatura atomica di Colter E' collegata alla rete elettrica dell'arena Quell'affare è invincibile Canne rotanti Granate Niente Neppure un graffio Mi hai capito Che c'entra l'elettricità con la resistenza Fisica Dinamica Mi aspettavo di Cazzate Ok ragazzi Cliccate sull'interfono Di nuovo L'ho messo un vassoio Buono Sapone Pallone Sgompio A strada è giocata Lo ventilatore Tattato Qual'arma dietro? Mi pare strano che sia questa l'arma Definitiva Definitiva Oh eccola Idrofulminatore No vabbè bellissimo Adesso faccio uno scritto Un shot Stola d'acqua C'è un 999 di acqua Bellissimo Che ha fatto danni solo Bellissimo Il trofo Illuminato Ho fatto i danni Ah forse dal bagno Che cazzo è Ok dal bagno ragazzi Si va Da qui Credo Gli posso pure Staccare la corrente Però a quel punto Non lo colpo L'energia dell'arena È scesa del 30% Opera tua Non male E la pistola L'abbiamo trovata E ora Dalla gente Che t'era più fidata Ah ok Abbiamo preso la pistola Dio Questa è L'arma ti servirà comunque Bisogna riparlare Maglio così Si Si So che sembra ridicolo Ma devi fidarti di me Sei ancora libero Certo che ci sono Ora Riguarda quell'arma Ho sempre voluto Ho sempre voluto Una di queste A Sean Sarebbe piaciuto Da impazzire Oh bene È il tuo giorno fortunato Complimenti Ora Possiamo procedere Quando l'acqua colpirà L'armatura atomica Elettrificata Di Colter La manderà In cortocircuito Sarà privo Di difese Ma avrai Pochissimo tempo Per causargli Dei danni Prima che si ricarichi Fallo fuori E ti giuro Che non ti pentirai Di aver affrontato Questo duello supremo Perché ha smerdito Restare idratati È cruciale Per vincere Giusto? Eh Non ha scelta Se la tre Andiamo Ok È il momento Apro la porta Quindi parlare Con il cito Ci vediamo dall'altra parte Sembrerà che Devi continuare A parlare con il cito Lui non parla più E te gli devi riscrivere Gli devi ricliccare Comunque io dico Impostiamo quest'arma Come pre-preperiti Al tasto 0 E il 7 Al tasto 9 E che altra arma E che altra arma Vabbè Urma Il lazzo L'ho usato Guarda quanto cavolo L'è No Ok Ok salviamo Autosalvo Mi chiede un per culo Regà Ok Oh 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 Bene Di scevoli Avete voglia di sangue Come fa corrente Ragazzi a me sta muovessimalissimo Io ho provato un rato Che è sicuramente la c'era Ok Dio Oddio top Non c'è precisbox La squadra si larga Stasera Jetting Il mini Guarda La squadra si gu Pronti ad assistere alla mia ennesima uccisione e tu hai voglia di morire siamoci dentro che lo spettacolo il massacro viene inizio chi si è spento è andata al corpo taglia tutti allora io direi te attro da magnate uccione arti perfetto oh padre stentissimo ma che cazzo di arma hai immatura atomica iscruttibile forse una granata forse potrebbe esattamente dei dati mi ha affidato una granata pure lui questo è un famone io con la tastiera divento pazzo comunque eh non sono proprio abituato oddio chi è dove eravamo rimasti ben comincia presto sarà tutto finito com'è? una mia arma ah lì truugo mi sembra ripignato non si oggi è quanto dai c'è una entrambi mamma mia qua fietta ammazza bu ammazzate e gli altri due corti ah no cazzo si è curato e' di nuovo in fin non è l'innamo di martellazzo ovviamente che faccio quasi i danni del fernan sono scuattissimo è un vecchio un critico lo do tutto per te e abbiamo appena avuto il scavo il picco atto di tutto come pure dopo il grande capo gran capo ah il torsio è leggendario figi i danni del fia e i nemici e' praticamente un tesla e' certe cose e' che cazzo è successo e' lo aspettavate lo posso pure aprire abbiamo questo corder è morto il che significa che abbiamo un nuovo gran capo questa qui sono il gran capo sei sicuro gage spero tu sappia questa qui stanno tutti a rotecarica c'aveva pure il pugno potenziato per chi non ce l'aveva già guarda questo vabbè poi ora accoglievo mo puttamolo quello che stai facendo ehi ne avevamo parlato ha superato il duello supremo ha ascoltato i miei consigli e ha avuto la forza di battere colte e' la persona che ci sente non sarebbe il caso di mostrare un po' di rispetto per il nostro nuovo leader otterrà rispetto quando se lo guadagnerà da lì ho ammazzo tutti il supremo leader hai capito bene è bello mazza sto pure con Nick fai odici che mi ha dato i consigli è il caso di mostrare un po' di rispetto per il nostro nuovo leader otterrà rispetto quando se lo guadagnerà ah si c'è un super martello sei ancora occupato oh dai ok va bene adesso levatevi da cazzo faccio vedere il posto al cuore via va che mi fa vedere il posto fammi vedere che ti avevo detto ha funzionato alla perfezione ora potremo entrare a Nuka World ragazzi finalmente l'andremo a vedere volevi il gran capo morto e così davvero volevi il gran capo morto morto fuori dalle palle che differenza fa ci avrà un secondo fino ovviamente ragazzi questo è sempre il commo wet ha vuoto per un goccio d'acqua chissà cosa scriveranno sulla sua lapide avrei voluto essere più vicino per vedere la sua faccia quando l'armatura è andata in grado molto feghe comunque questo DLC ragazzi pure il labirinto per arrivare è tutto troppo veloce un po' baggato devi ascoltarmi abbattere Colter non è stata una decisione impulsiva era da un po' che alcuni di noi ci stavano lavorando su ma che bandana c'è benda c'è sull'occhio cuotissimo ma vedremo ti garantisco ti garantisco che ne parrà innanzitutto ora sarà da ritrovare quello stronzone che ci ha fatto entrare per salvarla famiglia e invece era un trappolone sarcasmo mi racconti mi offrirai un milione di tappi ok ho capito non ti fidi di me ok dicci un po' ci sono tre bande di predoni che tengono in piedi la baracca i discepoli gli operatori e il branco il branco non mi a parte non sono i soliti predoni questi imbecilli non sono capaci di andare d'accordo grazie a Colter il posto è diventato una bomba pronta ad esplodere quindi dobbiamo farli pacificare fra di loro per conquistare il Commonwealth dopo dai eh poi si potranno fare proprio degli attacchi dicono ragazzi proprio al Commonwealth con tutti i predoni e fare tu gli attacchi agli insediamenti fatti bene voglio tanti tappi mi piacciono i soldi come dice Krabby di Spongebob dai avrai una montagna di tappi lascia che ti apra la porta che sarebbero i miei allora uh c'ho poca pazienza apri ah bravo a lui non ce lo inculiamo ragazzi ci andiamo a parlare dopo adesso andiamo a vedere Nuka World perché sono troppo curioso però l'esplorazione finale lo vedremo in un altro video quindi adesso andremo a dare una breve occhiata e in circa fra 3-4 ore perché ho calcolato che farà una cosa del genere vi caricherò il secondo video quindi tenetevi pronti guardatevi questo abbiamo scoperto Cola Cards e questa è Nuka World fighissimo il parco a tema della Nuka Cola questa sera quasi inoltrata bellissimo Nuka Town USA ok poi vabbè ci seguiremo bene i dialoghi che cos'è questa ok voglio farvelo vedere bene dall'alto eh non è piccola la mappa eh andiamo a vedere che ho fatto ecco sono tre fazioni qui come vedete e ora per vedere dall'alto si capisce meglio di questa mappa più di tutta adesso ve lo faccio vedere se riesco ci sono proprio i schiavi qui a quanto pare con tanto di collare esplosivo questa sembra un'altra arena eeeh wow vadula ok adesso facciamo un girettino veloce soltanto in questa primo spazio e poi vedrete tutto ragazzi nel prossimo video mi dispiace ho sorpreso quindi aspettate un'oretta e ve lo caricherò ti do il benvenuto nella tana capo ti stavamo giusto aspettando ok qui c'è la tana invece del branco mi pare di aver capito c'è un collare ma hai parlato di una trappola mortale lo so e mi dispiace ma se avessi avuto qualcuno a cui tieni lo avresti fatto anche tu ho perso la mia vera famiglia quando Colter e le sue bande ci hanno strappato questo posto e quindi sono morti la tua famiglia vabbè ragazzi siamo diventati cattivi è la tua fine mi dispiace fai il tuo lavoro mazzo cattivo probabilmente avrei potuto prendere altre decisioni oh ma te questo AK-47 lo voglio quindi un'altra cosa che si potrà prendere è l'AK-47 cinese ragazzi questa è l'uscita quindi c'è anche un luogo aperto come vediamo e niente ragazzi tenetevi pronti per il prossimo video che caricherò a breve addio beh gli spazi sono ampi qui non è da buttare via eh ragazzi c'è tanto da vedere tra cui formiche di fuoco come già abbiamo visto sciami di formiche in stile Dungeons & Dragons cioè come un unico essere comunque abbiamo raggiunto l'ora ragazzi quindi mi dispiace ma ci sarà un altro video da un'ora che caricherò quindi spero che intanto il video vi sia piaciuto di questo Nuka World che ho rimediato 15 giorni prima perché come ho già detto sono in Grecia e niente il prossimo video sarà un'ora di video dentro Nuka World quindi ci sarà tanto da vedere alla prossima ciao ragazzi oh no aspetta formica di fuoco la faccio vedere bene oh il nido no mi sa che il video durerà un altro due secondi tanto tempo di andare a vedere il nido no pensavo che se lo attaccavamo non c'erano altre dove stanno altri buu ok siamo stati interrotti all'ultimo da quattro formiche di fuoco un ricordo di fallout 3 almeno quanto ne so io non mi ricordo il fallout prima che c'erano le formiche di fuoco comunque però erano tanti anni fa comunque niente ragazzi alla prossima vi risaluto ciao belli il prossimo video sarà tutto su tutto esplorativo ciao ragazzi al prossimo abbraccio Grazie a tutti.